Con Enzo Bucchioni parliamo in particolare di Juventus, oggi intanto è stato il giorno dell'addio ufficiale di Pirlo che passa al New York City, si chiude così un capitolo lungo 4 anni con la Juventus per Pirlo. Sì, intanto ben ritrovati a tutti. Era inevitabile questo divorzio perché Pirlo, essendo oltre che un campione il maestro del centrocampo e non solo del calcio italiano degli ultimi 10 anni, ha capito che la sua avventura era ai titoli di coda. Non potendo più giocare da titolare, andare a finire in panchina, soffri sempre se sei un grande campione, se hai un amor proprio molto marcato come aveva Pirlo. Secondo me ha fatto bene, era nell'aria, io l'avevo scritto due mesi fa, anche altri. Insomma, è una cosa che stava maturando, Pirlo doveva prendere soltanto la decisione, è andata a New York e quando sei a New York sei davvero l'ombelico del mondo, come diceva la canzone di Giovanotti. Quindi quando è andato lì ha maggior ragione, ha firmato. Oltretutto si becca 12 milioni di euro a stagione, un ingaggio da favola che in Italia non ha mai avuto e quindi ha fatto benissimo, ripeto, lì troverà grande spazio, potrà diventare un idolo come l'estato del Milan e della Juventus e della nostra nazionale. Mi dispiace un po' perché l'anno prossimo ci saranno gli europei e non so se Conte lo chiamerà ancora se non avrà l'abitudine a certi ritmi, se perderà l'abitudine a certi ritmi probabilmente perderà anche la nazionale. Ma su questo staremo a vedere. Marchisio può essere il suo erede, Marchisio ha prolungato il suo contratto fino al 2020. Ma l'erede come ruolo di sicuro l'ha già dimostrato, l'anno scorso Pirlo ha avuto diversi stop per infortunio quindi il sostituto naturale è Marchisio, giocatore diverso, di Pirlo ne nascono uno ogni 30 anni, un regista vero, con caratteristiche diverse da Marchisio. Però come personalità, come tempistica di gioco, cioè la capacità di tenere insieme la squadra, di essere il punto di riferimento, Marchisio ha fatto benissimo. Cambieranno un pochino i meccanismi ma la Juventus ha giocato bene anche quando Pirlo non c'era. Toccherà naturalmente ad Allegri oliare questi meccanismi, Allegri che ha prolungato il suo contratto fino al 2017 con la Juventus. Sì, andrà a guadagnare circa 4 milioni, un milione e mezzo in più di quello che prendeva, non facciamo i conti in tasca a nessuno, ma lo dico perché è un adeguamento giusto. Allegri l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria, dimostrando un'intelligenza, soprattutto al di là delle capacità calcistiche, l'intelligenza di calarsi in un ambiente dove avevano già vinto in punta di piedi, con umiltà e poi adeguarsi alla situazione e cambiare la strada facendo. Io sinceramente, lo dico per l'ennesima volta, non credevo un anno fa che Allegri potesse fare alla Juventus tutto quello che ha fatto, addirittura migliorare quello che era stata la Juventus di Conte. Ha usufruito naturalmente del lavoro di Conte, non possiamo dimenticarlo, però l'ha migliorato portando addirittura la Juventus in finale di Champions e non succedeva dal 2003, lo sappiamo. Quindi un giusto aumento, quando fai bene, io sono per la meritocrazia, magari lo facessero anche con certi calciatori che hanno degli stipendi astronomici e poi non rendono sul campo, lì sarebbe il caso di abbassare lo stipendio. Allegri ha fatto bene, è giusto che glielo alzi. Su Pogba invece Agnelli ha detto che le certezze si potranno avere soltanto il primo settembre. Tutto questo che cosa ti fa pensare? Mi fa pensare quello che io scrivo da febbraio, non perché lo scrivo io, perché sono fatti accaduti. C'è stato un incontro con Raio e il procuratore di Pogba che sta cercando di capire qual è la miglior soluzione per la Juventus e per il ragazzo. Sta sondando tutto il terreno, è chiaro perché si lascia una porta aperta Agnelli e fa benissimo. Se domani arriva qualcuno delle squadre interessate, veramente fa l'offerta monstra, attorno ai 100 milioni di euro e Pogba si devono mettere l'animo in pace i tifosi da Juventus. Pogba va venduto perché con quella cifra lì la Juventus può ulteriormente andare sul mercato e paradossalmente rafforzarsi anche senza Pogba. Tenere un ragazzo di 22 anni oggi, bloccarlo, potrebbe diventare un fenomeno da pallone d'oro per 10 anni? Non lo so, potrebbe anche fermarsi lì e l'anno prossimo se la Juventus volesse venderlo, magari invece di 100 vale 50. Quindi c'è un rischio troppo alto. Quando un ragazzo giovane arriva a certi livelli e ha un mercato così è quasi obbligatorio venderlo, ma la Juventus lo sa e secondo me, vedrete, alla fine lo venderà.